Il forte vento che si stava abbattendo sull'Ortigara stava impedendo l'operazione di recupero con l'elicottero e sono stati così attimi di paura per un 69enne di Verona e l'equipaggio del SUEM. L'uomo ha avuto un malore domenica mattina durante l'annuale pellegrinaggio nazionale sull'Ortigara dell'ANA. Non manifestando niente di preoccupante ha iniziato a scendere a valle con un amico accompagnato da un tecnico del soccorso alpino di Asiago. A metà percorso le sue condizioni sono però peggiorate e alle 11.20 circa è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza decollata da Treviso. Ma il vento impediva le normali operazioni di soccorso. Atterrato il mezzo nelle vicinanze, l'anziano è stato così imbarellato e portato a spalla per circa 200 metri in un punto dove è stato possibile fissare la barella all'eliambulanza che si è poi diretta all'ospedale di Bassano del Grappa.